Nel 2021 la Polizia Postale delle Comunicazioni ha fatto fronte alle sfide investigative poste dai reati informatici che hanno registrato tutti un notevole incremento, incremento al quale è stata data una significativa risposta in termini di repressione. E' continuata nel secondo anno pandemico la nostra attività di informazione rivolta ai giovani per un corretto uso della rete e dei social network, attività condotta sia in presenza che da remoto. Infine il commissariato di PS Online si è confermato quale punto di riferimento importante per i cittadini che hanno rivolto domande, hanno chiesto consigli e hanno segnalato fenomeni che hanno incontrato sulla rete.